Abbiamo avuto questa bomba d'acqua che si è riversata sul lato ovest del paese che ha creato dei problemi al torrente Bruga dove ha rotto un piccolo argine e si è riversata in strada e quindi ha allagato delle abitazioni sulla console antica dove non esiste la raccolta acqua e bianche che pertanto entrando nella fogna ha creato qualche problema. Poi al sottopasso Pissi perché purtroppo l'acqua che si riversa dal campo sportivo era talmente tanta che pur funzionando la pompa non è riuscita a smaltirla. Ma già stamattina faremo il punto e mia intenzione è intervenire subito già a partire da domani a Bruga e mia intenzione è andare a creare una vasca di decantazione nel letto del torrente per far far sì che tutto quello che l'acqua porta giù e poi un'ostruzione all'imbocco del colettone non avvenga. E' anche mia intenzione andare a monitorare, a controllare, a tagliare la strada che va dalla consolare antica a salire sino all'ex bar per ripristinare e fare quel lavoro che abbiamo già fatto nel 2010 in occasione dell'altravento.